Bella a tutti ragazzi, sono Yosho Kanziano della water bottle flip challenge Una volta ce l'abbiamo fatta Scusate Sì, è sicuramente, 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 vista da fuori, vista da fuori e anche, quanto sia Solo uno, perché? Solo uno Difficile, adesso sono venuti due Uno Oh 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 sono sempre il colloquio di un grado di una società di gestione di una persona che sono andato l'arte, 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 l'arte, sono andato l'arte, sono andato l'arte, sono andato l'arte, sono andato l'arte, abbiamo fatto i 4-5 5 6 5 no Arrivederci